Noi non sapevamo neanche, vedo queste persone che girano a cercare il suo gatto, tu si vede che chiamandolo lì, mi ha volato, non è nostro, è di una famiglia moldava che abita qui vicino. Hanno un cane, un aschi, che ci ha mangiato quattro galline, il gatto, soprattutto a voi, insomma che vi procura. Ma come è terrorizzato, ma guardalo, bravo!